E' bello a tutti raga e amiche amici sempre benvenuti sul mio canale Oggi vi farò vedere Oggi vi farò vedere Come Oggi vi farò vedere dei tipi di slime Che saranno Un secondo ora vi faccio vedere questi tipi di slime che sono Raga sono tre E sono piccolissimi Questo Questo E questo Ciao a tutti raga